Il primo tentativo lo fece con Peppo Criminale. Mamma mia, quanto è bello sto Maradona, guarda qua. E questo non è niente. Aspettate un momento. Vedete? Qui prima si accende l'aureola. Poi vedete questa miccia? Scende lungo il corpo di Maradona gli arriva sotto la scarpa. E qui viene il bello. Parte un razzo azzurro. Oh! E raggiunge il palazzo di Rimpetto dove voi con l'aiuto di un amico precedentemente avete piazzato questa porta di calcio. appena il razzo colpisce questa porta di calcio voi prendete questa peretta e premete ed esce la scritta Go! 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 E quanto costa questa meraviglia? Me lo chiedete perché dovete comprare o per semplice curiosità? Veramente è uno sfizio, tanto per saperla. Giovino, io tengo che fare, mi facite perdere di... Scusate. Tracciate pazienza, ditevi piuttosto di che cosa avete bisogno. Mi servirebbero una decina di toffe col fischio. A quanto me ne mettete? Toffe semplici o bitonali? Semplici. 500 lire e il fischio è garantito. È una multipla a dieci botte. Giovino, voi dovete comprare o mi dovete fare un'intervista? Veramente è... Ho capito. Voi avete problemi economici? Momentanei. Allora permettetemi un consiglio. Oggi a Napoli, sotto le 200.000 lire, non siete nessuno. Non vi conviene nemmeno cominciare a sparare. Rischiate di fare una brutta figura nel quartiere. Invece, con 50.000 lire, vi comprate una botta unica. Eccola qua. Modello Hiroshima. Praticamente una bomba nobile. E state sicure che domani nel quartiere si parlerà solo di voi. A proposito, voi come vi chiamate? Alfonso. Ecco, domani nel quartiere si dirà. E vista, Alfonso, hai sparato una botta che è una cannonata. Questa non è una botta normale. È una botta che si sente da capo posillipo appoggioreata. A me per questo mi chiamano criminale. Veramente io avrei bisogno di un atto di fiducia. Che io non vi posso dare. Casino mi appiccico con papà. Ma papà non è morto? Sì, ma prima di morire mi disse Papà, è stata accorta a forza. La prima di morire ha pensato a me? Sì, mi disse così. I fuochi e i crediti vanno tutti in fuoco. Ragione per cui fatta papà in contatto.